Buonasera a tutti, stiamo qui con Sangare. Domenica scorsa non avete giocato? Che giornata è stata? Ovviamente non siete andati a Casale. Che giornata è stata? Vi siete allenati lo stesso? Avete fatto qualche partita tra di voi? Il mister ci ha fatto riposare e dato le condizioni del tempo non siamo riusciti ad andare a Casale per giocare questa partita. Partita che sarà molto dura, cioè in base alle condizioni del tempo, visto che il loro campo non è mai stato un campo facile da giocare. Tra l'altro domenica avrete una partita di nuovo tosta contro Givazzano. Cosa ne pensi anche in futuro della prossima partita? Perché sarà poi il 4, quindi avete due gare molto avvicinate. Contro Givazzano sarà una partita molto tosta, dato che loro arrivano da due sconfitte, però in base alla settimana, questa settimana è stata abbastanza tosta e quindi il mister ci ha tenuto sempre sul pezzo e secondo me riusciremo a fare una grande gara. Loro ovviamente dovranno reagire da un periodo un pochino più difficile rispetto a questo che comunque state continuando ad accumulare punti. Secondo te che partita sarà? Sarà una partita veramente dura. Loro attaccheranno soprattutto per avere questi tre punti, però secondo me sarà una partita abbastanza equilibrata. L'allenamento, tra di voi ovviamente quello che vi dice mister Givassi, cambia quando avete così tante partite avvicinate questa domenica, poi mercoledì e poi di nuovo domenica? Il mister ci tiene sempre sul pezzo, quindi secondo me è giusto così non cambiare gli allenamenti, secondo me farà dare il proprio frutto. Piano piano questo Fossano sta facendo sempre meglio e sta facendo sempre bene. Adesso ovviamente l'obiettivo è sempre salvarsi e aggiudicarsi questa salvezza. Secondo te dove può arrivare però questo Fossano? Questo te lo posso dire solo partita per partita perché questo campionato è molto tosto e ogni partita va giocato in campo, non posso dire altro. Ti dà solo più questo, hai fatto una doppietta nelle scorse partite, è stata decisiva per la tua squadra. Secondo te grazie a questo anche il mister ti farà di nuovo giocare o non sai ancora bene quale sarà la formazione? La doppietta è una cosa passata per me e spero anche per la società, giusta che sia. In settimana vedi chi si allena meglio e chi dà di più, è giusto che giochi. Passata ovviamente cercherai di rifarla. Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie a voi.